Salve, siete venuti pure voi qua, salve, siete stati pure voi qua per il provino di autore, sì, oppure voi, sì, già siamo due, brutto mestiere quello di autore, un mestiere che, poi c'è questo registro qua, questo è un disgraziato, e vabbè, disgraziato, ma? No, che chissà, è proprio freddo, guardate, ve lo dico, non freddo, sto registro, non avete idea, una volta ho visti, no, la figliata l'ha sbattuto fuori, no, no, non lui piaceva una cosa che questo ha portato, la figliata l'ha sbattuto fuori. Vabbè, ha fatto bene, e allora ci mancherebbe che accetta tutto quello che gli fanno vedere, scusate, allora che ci sta a fare? A calci, però, ma mi ricordo a calci, ah, sì, 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 mi ricordo, avete ragione, sì, sì, la figliata l'ha sbattuto fuori a calci, a calci, sì, avete ragione. Ma perché veramente ha cacciato uno a calci? E che sarà stato l'altro giorno? Ha vediato questo qua, l'ha sbattuto fuori la porta e poi gli ha dato due calci. Due calci? No, no, uno, oggi ho uno che fai. Due calci, mica uno. Tanti, ti hai una cosa bella qua? Che bella, no? Ti hai una cosa originale, simpatica, ho scritto una falsa in dialetto napoletano. Una falsa in dialetto, ma è troppo bella, perché è originale, sapete tutti quelli storici, dunque, è la storia di Pasqualino, già questa è una cosa originale. E' mica...